Siamo in compagnia di Davor Petrovic, Marketing Manager di B-Group. Davor, che novità ci presenti, che novità avete portato a questo Innovities in Campo 2016? Salve, buongiorno, grazie di essere qui. Allora, noi come B-Group, con i marchi di punta Bargame Project, siamo da sempre attaccati al settore del vigneto, in particolare con la nostra produzione di Manduria, vicino a Taranto, abbiamo tutto un range di atomizzatori per il vigneto e il frutteto e qui abbiamo portato due novità, di cui una scavallante, ed è la prima volta che facciamo l'atomizzatore scavallante. Poi, per quanto riguarda sempre il vigneto e la viticoltura, abbiamo da qualche anno questa parte sviluppata nel nostro stabilimento di Iesi, dove facciamo i semoventi, una vendemetrice semovente, e una vendemetrice trainata. Questi sono i nostri prodotti di punta per la viticoltura. La manifestazione si svolge in Puglia. Che importanza riveste il mercato vinicolo pugliese per il vostro gruppo d'Avor? Allora, la Puglia è da sempre uno dei nostri principali mercati, regioni italiane con importanza di mercato, è una delle regioni principali per noi, dove facciamo sicuramente una delle prime cinque per importanza di fatturato. I vigneti pugliesi sono, essendo la Puglia una regione molto lunga, sono di vari tipi, quindi ci hanno permesso negli anni di poter sviluppare e testare molti tipi di atomizzatori per la viticoltura e poi di esportarli nel mondo. Quindi, diciamo, oltre ad essere una regione molto importante per fatturato, dove noi produciamo gli atomizzatori, ci permette anche di testarli. Quindi, sicuramente per questo tipo di prodotto è la regione più importante in Italia per il nostro gruppo.